Parte ufficialmente la stagione in Casavellino, iniziano le visite mediche di vecchi e nuovi lupi che sono giunti presso il laboratorio SATA vicino allo stadio Partene Lombardi in compagnia del team manager Giuseppe Matarazze e dell'addetto stampa Alfonso Dacirno. Oggi è toccato a Pasquale Pane Gabriele Bernardotto, il portiere d'attaccante riconfermato alla corte di Roberto Taurino, sono stati accompagnati da tre neobiancovirdi. Infatti con loro era presente l'ultimo arrivato il portiere Richard Marcone che ha trovato l'accordo per i prossimi due anni, numero uno Italo-Rumeno, ex Trapani, Ternane e Potenza, completerà quindi la batteria dei numero uno. Così come Raffaele Russo, esterno svincolatosi dal Napoli e reduce da una buona stagione al Messina, il calciatore ex Rieti è pronto alla nuova avventura in Irpinia. Così come Giuseppe Guadagni, ex Paganese, 6 gol lo scorso anno con gli azzurro stellati. Dopo essere usciti dal centro, gli atleti bianco-verdi si sono spostati allo stadio prima di andare via pochi minuti dopo in auto con Matarazze e Dacirno. Domani proseguiranno le visite mediche in attesa del ritiro pre-campionato che si svolgerà dal 18 luglio al 6 agosto presso lo stadio di Mercogliano.